Grazie a tutti Allora, Alberto Abbiamo Alberto dentro Abbiamo Valentina Abbiamo Valentina E Martina fuori Non sentono quello che ci stiamo dicendo Adesso, quando Martina Quando Martina Toccherà Alberto Ogni volta che Martina Toccherà Alberto Alberto dovrà fare qualcosa o dire qualcosa di eccezionale Strucciati per te Ti dovrai strusciare per te Strusciare Strisciare per te Bene Mentre ogni volta che Valentina Sorriderà Alberto dovrà dire o fare cose incredibili Cosa? Cosa va a fare? Cosa va a dire? Urlare, cosa va a fare? Saltare Potete far fare qualsiasi cosa Saltare 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 e urlare cosa? È arrivata la rotina 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 Ok, grazie a comodi fuori Ero Saltare e fermi Saltare e fermi Saltare e fermi Valentina 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 Allora Mi giustifico Buona Ogni volta che Valentina Ogni volta che Valentina Ogni volta Scusate Che Martina La ragazza che è fuori Metterà le mani sui fianchi Mai Mai Non lo fa mai Allora ogni volta che Martina dice io Anzi ti fa una domanda Fa una domanda a chiunque Tu dovrai fare o cosa? Dire cosa? Facciamogli fare qualcosa di proprio esagerato Qualcosa di pazzesco Che gli facciamo fare? Capriola Una capriola Dovrai fare una capriola È un'elica Fa male Mentre ogni volta che Alberto Si toccherà Le mani Quando si toccherà le mani O si spiegherà le mani E lo fa sempre Tu dovrai dire una cosa Scalina Una cosa dai Facciamogli dire una cosa pazzesca Ho fatto la mano Cosa? Uno c'è di lingua Che dici? Tu vuoi i cappelli e gli dici Urra Urra Ogni volta che le dà una mano Tu dirai Urra Ma dovrai salire su una sedia Ok? Martina fa una domanda Capriola Io la mia sfida stasera Martina prima che ti si congelino neuroni Martina Allora Attenzione Ogni volta Ogni volta Che Valentina sale su una sedia Che gli facciamo fa' Tu svegli Ok? Svegli Mentre ogni volta Che Abbiamo detto Ogni volta che Alberto Ogni volta che Alberto Che farà? Dirà sì Ogni volta che Alberto dirà sì Tu dovrai simulare un orgasmo Va bene? Va bene? Fagli entrare Ma dovrai entrare sulla sedia Vieni Vai Pronti? Titolo dell'improvvisazione Non ci credo Chi ha scritto non ci credo? Io Non ci credo L'improtino del bruggetone è il non ci credo Pronti? Non ci credo Vuoi l'occhio Con la fiancola Luce Con l'occhio è pieno E farina Ah Lei? Non ci credo Tu sei a casa Non ci credo Vuoi portare la tua madre in casa? Non è la mia C'è la mia madre Le mani Oddio Oddio Guarda cosa è combinato Vengo la tua sempre solita E un Maria E lei è morta Guarda Mi piacerebbe che fossi morta Sono solo svenuta Le mani Le mani No ho capito La mia cosa Non stai bene Non stai bene Cosa fai te? Io che faccio Tu cosa fai? T'ho visto io l'altra sera Eri con l'altro Eh t'ho visto te col fratello Non so Gioco alla plettigio Gioco alla plettigio Ma ancora C'è Ma 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 È tua moglie Sì è mia moglie È arrivata la notina Con si prende un coltello Finalmente la faccio finire Amore aspetta Mi ti prego Aspetta Amore amore Te volevo dire Volevo dire te Non mi toccare No no non ti tocca Cosa le hai detto? Non toccami però Mi le hai detto Sua moglie Non ti prego Sono inerte Siamo una famiglia di matti Non siamo una famiglia di matti Sei tu Tu mi hai addescato Guarda che è stata lei Che mi ha preso Al bar L'altra sera Ti offro un Jack Daniel Tu il Jack Daniel Me lo hai offerto E non ridere Oh È fiva Dove è stato Il rotino Mi serve il coltello Dove è stato il coltello? Ha fatto una domanda? Domanda 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 Datemi un coltello Dov'è il coltello? Dov'è il coltello? Ok Vabbè io lo faccio Hai visto il coltello? Non lo so Ripetimelo Hai visto il coltello? No ripetimelo col dito Hai visto il coltello? Quanto? Quanto? Eh Allora Nove Venga 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 Venga